All'Aquila oggi è un giorno di dolore per la morte di Luca Nunzi, l'uomo di 45 anni, travolto ieri pomeriggio da una slavina sul Sirente. Era assieme ad altri quattro escursionisti che sono stati tratti in salvo dalle squadre del soccorso alpino praticamente illesi. Luca invece non ce l'ha fatta. La notizia si è diffusa subito. In città era molto conosciuto proprio per la sua passione per la montagna. Ad allertare la centrale operativa del 118 sono stati i propri compagni di escursioni. Sul posto è arrivato subito l'elisoccorso. Il tecnico del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico a bordo ha individuato subito il punto dove si trovava l'Aquilano, ma le condizioni sono a parte subito critiche. Nel frattempo gli uomini del soccorso hanno recuperato la salma e gli altri compagni assieme alla finanza. Anche il sindaco Biondi ha espresso il suo cordoglio. La valanga si è sviluppata attorno alla valle Lupara nel comune di Secinaro. Nunzi è scivolato per diversi metri a ridosso del canale Maiori sul versante nord del monte Sirente e poi è stato travolto dalla slavina che sarebbe stata causata proprio dalla sua stessa caduta. L'uomo assieme ad altri quattro escursionisti stava facendo un'escursione a piedi senza sci. Su quella che è la cima più alta di un piccolo gruppo montuoso dell'Appennina abruzzese, zona molto frequentata da sciatori alpinisti. Questa morte, l'ennesima tragedia in montagna, lascia sconvolta una comunità. I cinque comunque avevano l'attrezzatura, erano muniti di rampone piccozzi, si tratta di persone abituate a questo tipo di escursioni. Il bollettino più recente Meteomont era stato divulgato venerdì, parlava di pericolo valanghe da debole a moderato. Daniele Perilli, presidente del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino, spiega a Reteotto che l'incidente sostanzialmente è partito dalla sua caduta che poi ha provocato la slavina. Era una giornata nella norma, dice, anche se in montagna la condizione ideale non c'è mai, ma non era segnalato un pericolo valanghe. Perilli, molto dispiaciuto ovviamente per questa tragedia, ha spiegato che l'elisoccorso è intervenuto in tempi rapidissimi con tecnico e medico a bordo che sono stati verricellati immediatamente. La sonda ha individuato subito la posizione di Nunzi, racconta Perilli. Era sotto di 45 centimetri di neve perché ce n'è ancora poca, quindi hanno scavato immediatamente nella speranza di riuscire a salvarlo, ma non c'è stato nulla da fare. Fatali probabilmente traumi avuti con la caduta.